Ancora un'estate difficile e l'ennesima da alcuni anni a questa parte per i residenti di Pescara e Provincia a causa delle continue interruzioni idriche che creano pochi disagi alla cittadinanza. Secondo alcune stime sono circa 20.000 le famiglie solo nella città adriatica che da mesi vivono una situazione difficile con enormi disagi durante la maggior parte delle ore del giorno. L'ultima comunicazione da parte dell'azienda consortile acquedottistica che ha previsto nuove chiusure e riduzioni idriche programmate per il periodo dal 2 al 9 agosto non è andata giù al capogruppo Udc Pescarese che ha proposto alcuni passaggi amministrativi per far sì che questa situazione possa risolversi nel minor tempo possibile. Le persone che soprattutto delle periferie e le famiglie sono costrette a svegliare i propri figli e fargli la doccia all'una o le due di notte. Io penso che questo non è un vivere normale. Il primo passo sarà quello ovviamente di sollecitare l'ACA a risolvere il problema. Se ciò non fosse possibile siamo pronti a scendere in piazza attraverso e coinvolgendo il prefetto per cercare di trovare una soluzione contestualmente le dimissioni ovviamente del CDA dell'ACA ed eventuale commissoriamento dello stesso. Permettetemi una battuta. Non sono soletti a risolvere il problema tanto quanto lo sono invece nel staccare i contatori quando una famiglia in difficoltà per qualche mese non riesce a pagare le bollette dell'acqua. Complimenti ACA. Ad alimentare questa problematica anche il gravissimo incendio che nella giornata di domenica ha devastato la pineta d'Annunziana e solo grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco non sono state interessate le abitazioni. Pongo la domanda a chi rappresenta in questo momento l'ACA se ieri in quelle zone, nelle abitazioni, l'acqua c'era per poter far fronte ed aiutare sempre i nostri valorosi vigili del fuoco e i volontari in quella zona. Intanto ACA nelle settimane scorse ha attivato il servizio di fornitura acqua potabile tramite autocisterne per le sole utenze provviste di autoclave, oltre ad aver iniziato i lavori a bussi sul tirino per ampliare il prelievo dal giardino e aumentare le quantità di acqua da immettere in rete. Così come l'amministrazione comunale tampona le emergenze con misure eccezionali, ci aspettiamo che l'ACA ponga in essere misure eccezionali come per esempio delle autobotti sul territorio cittadino per frontezzare questa carenza, per far sì che un bene essenziale come l'acqua sia fruibile e godibile da tutti quanti. Inoltre ACA per il tramite ERSI ha presentato un piano di investimenti per la riqualificazione delle reti, sia nelle forme del PNRR che nel piano invasi. Non c'è un piano diciamo strutturato per la gestione delle emergenze, così come non c'è una visione d'insieme per gestire quelle che sono le criticità della rete idrica e quindi per agganciarci al PNRR e quindi per avere quelle risorse che sono state messe a disposizione, che sono tante, sono 650 milioni, proprio per gestire le crisi idriche e quindi risanare le perdite.